Salve a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video, ma soprattutto bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma prima, se vi fa piacere, potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale e potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Incredibile denuncia da parte del volto noto di Rai 1. Una vicenda assurda è stata segnalata direttamente dal personaggio noto sul suo profilo Instagram. Stiamo parlando di un episodio davvero inatteso e vergognoso che la Vipa ha fatto perfino fatica a raccontare tanto è stato il suo sconcerto. In pratica la donna doveva inviare un pacco e si è recata alle poste lunedì intorno alle 12 e 30. Mi chiamano allo sportello e il mio sportellista era impegnato col cellulare a fare qualcosa. Quindi mentre compilavo i fogli mi chiede ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Gli rispondo al certo, so tagliare i video. Lui mi fa, puoi aiutarmi? Poi, però, la conversazione ha preso un piega decisamente inaspettata. Il dipendente delle poste le ha chiesto, ti scandalizzi? La protagonista di questa vicenda gli ha risposto di no, non immaginava quello che lo sportellista avrebbe fatto di lì a poco. La vicenda è capitata alla ballerina di Ballando con le stelle Anastasia Cusmina. Alla domanda al ti scandalizzi, lei ha risposto, io dico di no perché pensavo che la domanda fosse il ti scandalizzi a tagliare il video? Gira il telefono e c'era il suo membro. Ovviamente Anastasia è rimasta scioccata e in quel momento non è riuscita a reagire come avrebbe voluto, mi sentivo troppo male e sono tornata a casa. Lunedì stesso non ho fatto niente di che, mi stato stentendo troppo male e sono scappata a casa, ha raccontato Anastasia, martedì sono tornata e ho denunciato l'accaduto al direttore. La ballerina ha poi affermato di vergognarsi per non aver reagito come avrebbe voluto e di non aver denunciato il fatto immediatamente, mi vergogno di essere scappata. Scappo spesso da queste situazioni. Anastasia ha poi aggiunto che tre mesi fa era stata seguita da un individuo in pieno giorno, alle 5 di pomeriggio. Non mi si scollava di dosso e anche questa cosa non l'ho denunciata, non ho fatto niente, ha spiegato rammaricata la ballerina. Infine l'amara considerazione, i lupi non li incontri soltanto quando sei ubriaca e svestita alle 2 di notte. I lupi li incontri anche alle poste a mezzogiorno e mezzo, li incontri per strada e hai sempre paura. Spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.